Chi quel giorno lo ricorda bene parla di un'enorme nuvola di polvere che invase l'intero quartiere. E il marzo del 99 un intero palazzo in via Pagano crolla intrappolando tre persone tra le macerie. In casa c'è una coppia di anziani Salvatore Finocchio e Maria Gugliotta, i primi a dare l'allarme dopo aver sentito scricchiolare il palazzo. In loro soccorso il genero Salvatore Siciliano vigile del fuoco che tentò di salvarli ma il palazzo venne giù troppo presto. Adesso per quel gesto eroico siciliano viene ricordato con un piccolo spazio verde. E' lì dove adesso c'è il vuoto che sorgeva la palazzina di sei piani crollata nel marzo del 99. Alle mie spalle invece la villetta dedicata alla memoria di Giuseppe Siciliano il vigile del fuoco morto nel tentativo di salvare due vite umane. Un eroe che per portare in salvo i suoi familiari ha sacrificato la propria vita ma l'avrebbe fatto per chiunque quindi il fatto che fosse risuocere è stato un fatto incidentale. Un vigile del fuoco fa queste cose per tutta la cittadinanza. Quella tragedia divenne poi uno dei più chiari esempi del sacco di Palermo negli anni 70. Un giro di affari sull'edilizia scadente finanziato con il denaro proveniente anche dal traffico di droga. Il sacco di Palermo ha prodotto morti, ha prodotto omicidi e questo si può considerare un omicidio di quel sacco di Palermo. L'illegalità è nemica dello sviluppo, dell'ordinato sviluppo e in questo caso anche nemica del diritto alla vita. Inoltre le inchieste portarono ad accertare irregolarità durante i lavori di ristrutturazione. Per questo furono condannati per crollo ed omicidio colposo l'allora direttore dei lavori e il titolare dell'impresa incaricata. Condanne per favoreggiamento invece per gli operai della ditta.